Eccoci qua ragazzi con il nostro video quotidiano, oggi sarò un po' più cattivello perché certe cose iniziano a stancarmi ma prima di parlare di questo, ieri prima partita amichevole tra Inter e Sarnico finita 16-0 Nengolà partito titolare, Celanoglu un buon 30 minuti e poi un Satriano Show con 5 gol di Satriano che ricercato come avevo già detto da mezza Premier League 3 gol di Pinamonti, 2 di Mulattieri e 1 di Di Marco Cagliardini, Ranocchia, D'Ambrosio, Nunzietini e Colidio Adesso andiamo ai vostri commenti e c'è Scheid che ci dice I giornalisti ancora non lo capiscono che Barella e Skriniar non partono poi soprattutto il Tottenham secondo loro scende a farsi la Conference League Skriniar ha detto che vuole difendere lo scudetto con l'Inter, Barella rinnova come Brozovic che deve tornare dalle vacanze e Lautaro avrò un rinnovo come giusto che sia infatti tra poco parleremo anche di Barella vedremo cosa prevede questo rinnovo che secondo me sono contento di quello che ho sentito, speriamo che sia vero e poi vi andrò a dire un altro commento di Scheid dice ho sentito parlare di una possibile promozione in prima squadra di Mulattieri e Satriano perché dicono sono già pronti, li ho visti in primavera e non dispiacciono sicuramente fisicamente, sono meglio di Sanchez e magari la volta buona che ci puntiamo su questi allora beh sicuramente ci vuole poco a essere meglio di Sanchez fisicamente Mulattieri non lo so, alla fine Mulattieri ha fatto la primavera e poi ha fatto un anno in serie B olandese che comunque ha fatto se non sbaglio come una ventina di gol come vi ho detto ieri però non so se sono pronti comunque a questo punto ci tenavamo più in amonti è bella lì, non sono pronti secondo me Satriano è la stessa cosa non puoi tenere certi giocatori in panchina non li puoi tenere se vuoi fargli crescere come uno come Satriano che lo cerca tante squadre e molte anche di Premier devi mandarlo a far giocare a fargli fare le ossa e quant'altro tenerlo come panchinaro non lo so secondo me almeno un anno lo deve fare in serie B, in Premier dovete pare, basta che giochi titolare io come in panchina vorrei qualcuno un po' più di esperto visto che anche a costo zero un Keita, un Keisedo che costa pochissimo non lo so, comunque sì Sanchez anch'io lo darei via perché comunque prende un sacco di ingaggio 7 milioni, una cosa incredibile tra l'altro poi è molto spesso infortunato facendo 2 più 2 visto che la società deve tagliare un po' di stipendi e lui che è sempre infortunato andrei su qualcun altro che dovrebbe essere da Spadoni ma che dovrebbe rimanere a Sassuolo quale oraro si prendesse vedremo cosa succederà adesso ragazzi andiamo alle news perché come vi avevo detto il Benfica era interessato all'azzaro e come vi avevo detto secondo me era tutta una cosa che riguardava anche Gio Mario ho visto che si è stato fatto questo favore loro ce ne fanno uno a noi si prendono l'azzaro bla 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 il giocatore non è convinto di andare al Benfica allora ragazzi i signori i signori l'azzaro Dalbert e Naim Golan sono pregati di non sentirsi più di Roberto Carlos di turno e andare fuori dalle palle perché io sono veramente stufo stufo e stufo e penso lo siate anche voi che questi giocatori ok oltre ad aver fatto delle stagioni bruttissime pessime e non essendo chissà che giocatori pretendano di decidere dove andare quello non mi va bene che poi sta andando al Benfica ragazzi cioè una squadra che comunque lotta praticamente ogni anno perde lo scudetto in Portogallo e praticamente sempre in Champions Bar Europa League fissa quindi non stiamo parlando di una squadra di terzo livello di quarto livello cioè una squadra con i controgazzi il Benfica comunque no non gli va bene secondo me l'azzaro vorrebbe tornare in Germania però mi dà fastidio che cioè Dalbert che rifiuta il CSKA in Russia rifiuta il transbonsor in Turchia mo vediamo poi vi dirò anche sul Cagliari perché Inter e Cagliari sembrerebbe che avessero trovato un accordo per Dalbert in prestito con diritto di riscatto tra i 7 e gli 8 milioni mo vogliamo se Dalbert accetta di andare al Cagliari penso che se ha accettato l'altra volta di andare alla Fiorentina quindi penso che la Serie A non gli fa schifo forse al Cagliari potrebbe anche andare chissà che rientrano come avevo già detto il discorso Nandez che all'Iz non è andato come avevo sentito la cosa dell'Iz era una cosa accampata per aria se non sbaglio non mi ricordo se l'allenatore del Cagliari non mi ricordo chi avevo sentito che oggi o ieri ha detto che Nandez molto probabilmente sarà un sacrificio perché ha molto mercato questo molto mercato non lo vedo anche perché con la valutazione così alta nessuno te lo viene a prendere chissà che con Dalbert e Nainggolan si riapre il discorso Nandez all'Inter quindi Nainggolan e Dalbert al Cagliari e un Lazzaro all'Inter poi quel famoso Luis Abram che adesso non si parla più che doveva essere preso dall'Inter e girato al Cagliari magari lo si metterà anche lui dentro vedremo fatto sta che i signori Dalbert io lo metterei a pulire i cessi il signor Nainggolan visto le sue avventure fuori dal campo potrebbe fare il barman e Lazzaro lo mette a fare il giardiniere quindi se non vi muovete ad andare fuori non siete Roberto Carlos non siete nessuno e avete rotto le palle di fare gli schizzinosi di rifiutare qualsiasi destinazione che sia in Russia che sia in Portogallo che sia in Turchia avete rotto avete rotto prendete e andate fuori dalle palle Nainggolan che buona uscita vuoi che ti abbiamo già contentato lo scorso anno mandandoti in prestito ti svincoliamo quest'anno per andare al Cagliari e ancora rompi le palle con la buona uscita prendi e pedala Dalbert non sei Roberto Carlos prendi e pedala Lazzaro su di te non posso dire tanto perché all'Inter hai giocato poco però il Benfica non è una squadra di terzo livello prendi e pedala mi avete stufato mi hanno stufato ragazzi scusate vabbè comunque andiamo alla prossima notizia brutta perché si è trovata una bambola gonfiabile con la faccia di Gio Mario impiccata a Lisbona sicuramente qualche fanatico dello Sporting che non ha preso bene il suo trasferimento al Benfica queste sono cose sinceramente che mi fanno abbastanza schifo e che sono la vergogna comunque del calcio perché una cosa ti può rosicare ti può fare benissimo incazzare tutta una serie di cose ma arrivare a fare questi gesti minacciosi anche non è proprio una cosa che mi piace e non penso piaccia a nessuno poi per quanto che dicevo ieri di Barella ragazzi Barella ha già dichiarato incedibile rispedite al mittente tutte le non le offerte perché le offerte non le sono arrivate ma i sondaggi diciamo ma Liverpool tutti via e a Barella molto probabilmente si farà un rinnovo che penso arriverà verso la fine del calcio mercato perché è l'ultima cosa comunque di cui parlare un rinnovo che andrà più o meno sui 4 milioni e cosa che mi fa molto piacere e che ho sentito è che sarebbe pronta una fascia da capitano ovviamente per il dopo Andanovic quindi il dopo Andanovic si dovrà scegliere un capitano e forse l'uomo scelto per il futuro capitano sarà Barella cosa che a me fa molto piacere perché io la darei a uno tra Barella e Skriniar quindi uno dei due sicuramente Barella mi farebbe molto molto piacere tra l'altro anche italiano quindi in una squadra italiana adesso un'altra risatina ce la facciamo perché di nuovo Dzeko Inter però attenzione perché una risata perché rispunta fuori l'ipotesi Dzeko Inter però eh no solo se Lukaku parte allora intanto tra Dzeko Inter non c'è niente non penso ci sia qualcosa non lo so ma comunque se dovesse casomai arrivare non è al posto sicuramente di Lukaku e stanno continuando a spingere per Lukaku al Chelsea che per ora non c'è niente tra l'altro Lukaku ha detto molte volte che rimaneva all'Inter Lukaku rimane all'Inter al 150% e non capisco queste continue cose quando parlano dell'Inter devono sempre dire cose negative andiamo avanti eh ah sì su Dalbert c'è anche la Real Sociedad anche se non ho sentito poco parlare vedremo e ultima cosa ultima notizia adesso che è finito l'Europeo ci si incontrerà l'Inter incontrerà Oriali e penso che si andrà verso la separazione tanto perché era molto legato anche a Conte adesso è cambiato tutto ma soprattutto perché lui adesso essendo anche eh in nazionale fare il doppio ruolo è comunque impegnativo poi c'è da preparare il mondiale deve lavorare molto con Mancini sul mondiale e quindi penso decida di rimanere al fianco di Mancini per preparare il mondiale senza dover s'occupare di squadre di club eh quindi vedremo ma molto probabilmente si andrà verso la separazione ragazzi detto questo in conclusione io spero che si smuova qualcosa perché ragazzi prima si faranno le uscite e dopo si parlerà di entrate finché certi giocatori non usciranno non entrerà nessuno e certi giocatori se avessero già accettato sarebbero già fuori dalle balle da un po' perché Dalbert aveva Russia e Turchia Lazzaro Benfica sarebbero già usciti Nengolan se non rompesse con la buona uscita sarebbe già andato quindi gente come Dalbert Lazzaro e Nengolan se non fossero stati così schizzinosi e quant'altro sarebbero già andati via sarebbero già usciti proprio spariti dall'Inter invece no sono ancora qui perché scassano le balle Vidal si sta aspettando che rientri e così via ragazzi vedremo cosa succederà per adesso Pirola è andato al Monza si parla di stanco come avevo detto Euristanio in serie più olandese insomma molto sui giovani e su questi si sta lavorando perché ragazzi sono molto schizzinosi non ne va bene un cazzo i nuovi Roberto Carlos detto questo io vado ci sentiamo domani sperando in qualche buona notizia anche perché siamo a metà luglio e niente ragazzi sempre solo Forza Inter e speriamo bene